Siamo tutti lo stupido di qualcun altro e per dimostrarlo facciamo un test. Conoscete più persone stupide di voi o più persone intelligenti di voi? Se conoscete più persone intelligenti di voi, di quelle stupide, o siete veramente fortunelli, oppure un plauso per la vostra autostima. Se invece conoscete più persone stupide, beh, allora vi siete già dati la risposta. È impossibile che tutti siano più stupidi di tutti. Anche noi siamo lo stupido di qualcun altro. Perché dico questo? Perché su internet dobbiamo ragionare esattamente così. Se no, non se ne esce. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Se voi andate nella sezione commenti di qualsiasi contenuto, ci sarà un gran numero di persone che, a una prima occhiata, sembreranno poco furbi. E magari vi daranno quel senso di rabbia interiore. Perché non è che hanno detto qualcosa di offensivo, ma non hanno colto delle cose, non hanno capito. O se ne escono con qualche frase che ti fa dire... Cosa? Che sma... Che non so come spiegarla. Quindi, cioè, mi servono i gesti e i versi per farmi capire. Che se no, è una roba. Cioè, è terribile. Ma la maggior parte delle persone che scrive su internet lo fa con leggerezza, con tutta la sua buona fede. Ed è per questo che nessuno si ricorda di loro. Poi ci sono invece quei livelli frizzanti. Quelli che creano teorie del complotto. Quelli che fanno post strani sui gruppi delle mammine pancine. Quelli che arrivano proprio a concepire un mondo totalmente diverso dal nostro. Quindi trainano. O se non trainano, comunque fanno un bel ciocco, un bel casino. Molto spesso, quindi ci viene da prenderli a parolacce, dire che sono stupidi. Però, solitamente, le persone che arrivano a questo livello di interpretazione fantasiosa del mondo è perché hanno problemi psichiatrici alle spalle. Io non sono uno psicologo e i dati sotto mano sono veramente difficili da reperire anche perché non ci sono studi, troppi studi in merito. Ma è abbastanza pacifico pensare che chiunque porti avanti o creda a idee così strampalate da essere scollate dalla realtà sia qualcuno con problemi di interpretazione del mondo e conseguentemente anche con problemi mentali. Non che sia un male o che sia un difetto. Ognuno ha i suoi problemi e vanno assolutamente guardati e vanno aiutate queste persone. Ma assumere che tutti quelli che scrivono su internet lo facciano nelle loro piene facoltà mentali, nella versione più positiva di loro stessi, diventa impensabile. Proprio perché non funziona così. Non è così che va il web. Il web è pieno di gentaglia cattiva che non ragiona. Ma non perché sono stupidi. Ma perché è il web? Loro tirano fuori il computer, scrivono sulla tastiera, fanno cose... Ma è normale. Non lo so, mi fa specie perché ogni volta che leggo i commenti ci penso e dico Ah, metà di questi o lo fanno apposta e sono scherzosi oppure hanno veramente tantissima difficoltà a fare qualsiasi cosa. A leggere il mondo, a leggere se stessi. Tempo fa Monty Winter, un tiktoker che seguo, di cui ho anche un libro lì e ho anche dato la voce a un paio di sue robe nell'album. Ha fatto un video dove diceva non torni in Italia perché battute sul governo. I primi commenti sono stati di giubilo. Sì, vattene, vattene con i tuoi amici, torna nel tuo paese tuo, eccetera eccetera. Lui ovviamente li condivide un po' amareggiato perché dice che cazzo è sta merda raga. Ah, non ve l'ho detto, Monty è nero. Non l'avevate capito dal tipo di commenti? Beh, comunque Monty è nero. Non c'entra niente e in realtà c'entra tantissimo. Perché quei commenti non parlano di lui, parlano di chi li scrive, ma parlano della loro lettura del mondo. E la loro lettura del mondo è palesemente fallata. Da, come dicevo qualche puntata fa, la loro camera di eco, la loro influenza. E quindi ricordiamocelo quando guardiamo i commenti, così magari vi chiamo di partire per la tangente contro chiunque, solo perché è un po' più stupido di quello che noi spereremmo. Detto questo, che ne pensate? Siete d'accordo, non siete d'accordo? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E mentre scrivete un commento, io vi saluto, vi invito a seguirmi sul canale Telegram, che non fa mai male. C'ho anche il gruppo. L'avete messo il mi piace? L'avete messo? Beh, mettetelo, mettetelo, è importante. E detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.